Sono 53 gli allievi che da lunedì prossimo presteranno servizio nel corpo di polizia municipale della città di Napoli dopo lo sblocco delle assunzioni avvenuto lo scorso dicembre. Questa mattina l'assessore Alessandra Clemente ha incontrato nei assunti nella sede centrale della protezione civile in vista del collocamento degli agenti sul territorio. È una cosa che aspettavamo da tempo, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo il 31 dicembre, ci auguriamo che i nuovi colleghi che faranno parte già da lunedì delle attività operative siano praticamente entusiasti dell'attività che vanno a fare. La nostra è un'attività di servizio, non bisogna mai dimenticarlo e lavoriamo in funzione delle esigenze della collettività. Il benvenuto da parte del sindaco e mio alle ragazze e ragazzi nuovi assunti della polizia locale. La copertura economica prevede soltanto una contrattualizzazione di due anni, molte persone hanno valutato di non accettare da questa nota critica però un'importante boccata di ossigeno. E sono contenta, questo grande entusiasmo che ho avuto modo di vedere negli occhi di queste donne e di questi uomini, il grande lavoro formativo che dal comando di polizia locale è stato realizzato dall'inizio dell'anno, oltre che lo sforzo amministrativo nella contrattualizzazione che si è consumato proprio nella notte del 31. Il personale svolgerà attività di controllo e sorveglianza nelle sei unità operative periferiche che serviranno, tra le altre, le zone di Bagnoli a Fuorigrotta, Scampia, Chiaiano, Secondigliano, Ponticelli a San Giovanni, Soccavo e Poggio Reale. Sono dedicati a tutte le unità periferiche della nostra città. È un'importante sfida ma un qualcosa nel quale crediamo e a tutti quanti va un enorme bocca al lupo, oltre che la conferma di un impegno a sossegno massimo di tutto quello che accadrà da qui ai prossimi due anni e soprattutto già un importante impegno teso alla stabilizzazione di queste figure e alla nascita per la nostra città di un nuovo concorso. Mi aspetto di crescere, di crescere però insieme alla mia città e mi piace sposare l'idea che ho sentito in questi giorni da parte di moltissimi capitani che noi non lavoriamo ma prestiamo un servizio e quindi questo è il punto fondamentale dal quale partire per fare bene.